Ciao tesori e bentornati sul canale! Oggi in nuovo scopriamo le creazioni resina ed era da tantissimo tempo che non realizzavo così tante creazioni e guardate un po' sarà che siamo quasi a settembre e sono tornate le foglioline! Un tempo quando facevo gli scopriamo erano il must have del canale poi vabbè ovviamente escono le cose nuove, tarocchi eccetera eccetera però con il ritorno dell'autunno torneranno sicuramente le foglioline, anzi sono già tornate! Ho poi fatto vari esperimentucci piccolini, qui ho provato a fare dei mini tarocchi con la foglia oro che non avevo mai provato sulle creazioni e direi di iniziare proprio dalle foglioline per cui ho utilizzato i nuovi pigmenti che trovate sul sito di Giacreations su cui trovate anche tutti, tutti questi stampi! Allora, iniziamo da questa e... wow! Adoro questo verde, è fantastico! E come facevamo ai vecchi tempi, prendiamo i nostri fidati bicchierini e poggiamo la foglia che non è ancora perfettamente catalizzata qui dentro così da metterci tante mini sirenette! Perché, come vi ho accennato su Instagram, creativamente è un periodo un po' inattivo ma non perché io abbia un blocco creativo ma perché sto lavorando ad altro ma fra qualche settimana dovrei tornare... Oddio, ma che bello! Non sembra ci vada su la luce del sole al tramonto, è bellissimo! Dicevo, e quindi fra qualche settimana potrò finalmente tornare attiva anche per quanto riguarda le creazioni. Ecco qui l'altra foglia, fra l'altro queste sono quelle che ho disegnato io per Gea e so che vi piacciono tantissimo e sono super contenta di ciò! Guardate questi pigmenti quanti colori fanno! Anche lei nel bicchierino c'è! Guardate qui! Adoro! Quanto mi sono mancate le foglioline! Non avete idea! Poi, poi, poi quest'altra... Vediamo... Infatti lo scopriamo di oggi... Uh, questa piccolina! Lo scopriamo di oggi... Vado più o meno sul sicuro perché non ho fatto cose strane! Questo pigmento è uno dei miei preferiti per le foglie autunnali, quello che va dall'arancione al viola, è bellissimo! Però questa la lascerei così... Sì, non la piegherei, mi piace così! E l'ultima di questo set... Eccola qui! Questa l'ho fatta un po' più sui toni dell'arancione, giallo... Ed è bellissima! Tra l'altro questo stampo ce l'ho da un bel po' di tempo, come sapete dai vecchi scopriamo! L'ho usato comunque tantissimo, ma... Regge ancora! Evviva! Le foglioline! Quanto mi sono mancate! Vediamo questi che sono degli scartini, ma sono molto molto carini, anche se volete personalizzare delle basi, sono super utili! Eccola qui, che bella! Anche questa, bellissima! Poi piccolissima! Che bello sto pigmento! Non ricordo nemmeno che pigmento è, perché questo li avevo... Ci ho trovato lo stampo con già spennellati su questi pigmenti, quindi non ricordo! Bene, viste le foglioline, poi cosa vediamo? Allora, vediamo questa, la chiave di Harry Potter, che mi andava di fare. Eccola qui! Wow, questo colore per le chiavi è bellissimo! Fa parte sempre dei pigmenti che vi ho sbocciato qualche settimana fa. Guardate come brilla, brilla, brilla! Poi qui, vabbè, ho utilizzato della resina di scarto di un colore che mi è servito per la carta del mago. E guardate, ho utilizzato queste pagliuzze blu scuro, che sono bellissime, fanno un effetto stupendo! Cioè, guardate! Non so, me ne piace tantissimo! Ok, anche questa è andata, anche qui ho usato della resina di scarto, non sapevo cosa farci, ho detto vabbè, si avvicina a Halloween, facciamo la bara, ed eccola qui, anche questa con queste pagliuzze bellissime che sbrelluccicano tantissimo. Questa è la base che utilizzerò per Artemide, cioè la dea Diana, dea della caccia, che sto realizzando per la serie delle divinità. E wow! 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 Non me l'aspettavo così bella! Oddio! Qui ho utilizzato vari pigmenti per fare l'effetto di luce, non è solo un pigmento. E wow! Mi piace da morire! Oh, è bellissima, sarà perfetto per Diana. Però anche lei di riuscire a finirla in fretta. Ed appunto sempre per Diana ho realizzato il cavalletto con la stessa colata di resina che ho utilizzato. Wow! Wow! Che cosa ho utilizzato qua dentro? Ah, queste pagliuzze. Oh, bellissime! Oddio, mi sanno proprio di autunno, non lo so perché sarà che sembrano tante foglioline. Che bello! Devo utilizzare questo per la foglia. Allora, mettiamo qui, mettiamo questo qui. Ora non so se regge perché non è ancora perfettamente catalizzato, ma ecco il cavalletto per Diana, ci sta benissimo! Bene, 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 per ora sono molto soddisfatta. Allora, vediamo poi la carta del mago che come sapete ce l'avevo pronta, cioè dipinta, diciamo, da tantissimo tempo e mi sono decisa finalmente a colarla. Ma andiamo prima a vedere tutte queste pozzoncine diamantini che non ho decorato, ci ho semplicemente messo dentro la resina di scarto, ma li trovo comunque bellissimi. Guardate che carini! Cioè queste fatte bene, cioè con la resina trasparente, con una goccia di resina colorata, sono super carine. E appunto nella carta del mago guardate quante boccettine trovate, sono stupende, alcuni sembrano barattoli di marmellata. Questi, di tutta, poi, oh, di mina, e questa trabucettina. C'è proprio quella degli esperimenti, esperimenti. Ok, e adesso vediamo la carta del mago perché questo colore l'ho creato proprio per questa carta. Wow, ci piace! Che bello! Sembra proprio uscire dall'oscurità! Wow! Ah, che dipnotico! Non so se per la luce... perché veramente sembra proprio... non so se ho un'impressione che sta dando solo a me, ma la dà anche dal vivo, di un mago che esce appunto dall'oscurità. Però vediamo, spegnendo la luce, il mago è entrato nell'oscurità e vabbè. Penso che la lascerò così, oppure ditemi voi se dovrei decorarla con l'oro. Ma non penso perché andrei a perdere questo effetto così particolare. Ok, poi restano due geodi, una forma di luna. Anche qui ho sperimentato con quelle pagliuzze, mettendole direttamente sullo stampo. Uh, guardate quanti colori! Anche questa sa molto d'autunno. Anzi, sembra proprio terriccio autunnale. Quindi più che una luna geode, sì, mi sembra un po' di terriccio, quello proprio bagnato dalla pioggia, con i pezzettini di foglia. Bello, mi piace, mi piace, ma non come luna però. Però l'effetto mi piace. Vediamo questa planchette, come è venuta. Eccola qui, qui ho utilizzato appunto uno dei miei pigmenti preferiti, come vi dicevo prima, quello che va dal viola all'arancione. Ed è bellissima, questo stampo ve lo straconsiglio perché è stupendo e molto versatile. Ed arriviamo a quella più importante. Questa ho deciso di creare, di crearci uno specchio, una specie di specchio. Vediamo un po' com'è venuta. Pronti? Oh, piano, piano. Wow, adoro! Bellissimo, mi piace tanto. Fra l'altro la forma di questa cornice mi ricorda tantissimo, solo che è più allungata questa, la forma dello specchio dei sogni di Sailor Moon. Quello nella serie è appunto il cristallo dei sogni, cioè che c'era questo specchio che usciva dalle persone, mettevano la mano dentro, insomma, non lo so perché ma mi ricorda un po' quello. Ed è bellissimo, mi piace tantissimo com'è venuto. Forse sarà la base per una mia nuova collezione, però non lo so. Ci devo pensare perché avevo in mente, spoiler, di fare i sette peccati capitali, ovviamente sotto forma di doll, insomma, nel mio stile, i miei personaggi, eccetera. E volevo usare questo come base, questa cornice come base, ma non lo so. Fatemi sapere se vi piace l'idea e se vi piace la base. Scusate, ma questo devo proprio farvelo vedere anche da vicino. Guardate quanto è bello, e sono contenta di aver scelto il foil rosa, perché riprende un po' il rosa che c'è nel pigmento. Qui c'è un altro pigmento, e wow. E volevo farvi vedere anche la base di Diana. Perché mi piace da morire. Io ovviamente, solo mentre stavo editando il video, mi sono accorta che non ho tirato fuori queste, che erano forse l'unico vero esperimento di tutto lo scopriamo. Quindi vediamo un po'. Volevo un effetto pietra, diciamo, con le pietre preziose. Ed ecco qui la mini carta del sole. Avevo il pennello sporco, ci è venuto un po' di pigmento. Non so se è una cosa buona oppure no, ma sicuramente con il pennello pulito sarebbe venuto meglio. Allora, dal vivo l'effetto è anche più bello. Non mi dispiace. Magari la prossima volta devo mettere della foglia oro anche nella resina. Così otterrò proprio l'effetto che volevo io. Così quel rosso comunque del pigmento mi disturba. Ah! Vediamo quest'altro. Questa è la mini carta della torre. E anche questo mi piace tanto. Proviamo a decorarli con l'oro, perché altrimenti poi non si vede niente. Molto meglio. Guardate anche questa del sole, che è la mia preferita. Bello dai, sono soddisfatta di questo effetto sulle carte dei tarocchi. Mi piace molto. Farò anche quelle grandi. Ok tesori, queste sono state le mie creazioni di oggi. Devo dire che quando ci sono le foglioline, di solito vincono sempre a mani basse, però la mia preferita di questo scopriamo è sicuramente questa base, perché mi ha sconvolta. Mi ha veramente sconvolta questo mix di pigmenti, quello che ho utilizzato nel retro, queste pagliuzze bellissime. Almeno per me lo sono. Poi appunto, aspetto... Oh no, ci sono foglia, povero. Adesso tesori, resto in attesa dei vostri commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stata la vostra creazione preferita. Grazie mille per seguirmi e per il sostegno che mi date. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!